Uno dei business più redditizi, secondo solo il traffico di stupefacenti, è la tratta di esseri umani che frutta, secondo la Commissione europea, oltre 32 miliardi di dollari. In Italia sono state accertate oltre 2.000 vittime all'anno. Solo in Piemonte, 667 sono state le persone accolte dagli enti antitratta tra il 2014 e il 2018. Sono i dati emersi all'incontro Emergenza Tratta in Piemonte, nuove forme di criminalità organizzata. Tenuto nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, è organizzato a cura della direzione processo legislativo e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte. C'è un'emergenza ma in questo momento è monitorata e controllata sia dal Forza dell'Ordine che dalla nostra Procura. E poi in questo clima nel Paese, soprattutto dopo tutte le polemiche legate all'immigrazione, è necessario iniziare a parlare in modo preciso, serio e competente di un fenomeno che può spaventare e che però porta con sé dei drammi personali, quindi lo sfruttamento della prostituzione piuttosto che lo spaccio di stupefacenti di droga ai nostri giovani. E' giusto che le istituzioni tengano alta l'attenzione parlandone, facendolo la loro parte e facendola in modo serio. Spunto di riflessione, la presentazione del libro Mafia Nigeriana, in cui il giornalista Sergio Nazaro ricostruisce attraverso interviste e documenti inediti i momenti chiave della prima indagine della squadra antitratta di Torino, operazione che ha portato 44 condanne in primo e secondo grado. Era secondo me una storia importante da raccontare, viene smantellato un gruppo, i Mafait, uno dei più pericolosi e meno conosciuti, soprattutto a Torino, città che è la prima in Italia nel 2006 con l'operazione Niger a dichiarare che molta criminalità africana è anche mafia. Bisogna studiare le mafie per quel che sono mafie, non usare il fenomeno migratorio o la criminalità africana come un grimaldello politico. Bisogna studiare i fenomeni criminali, gli innocenti non hanno distinzione di pelle, così anche i criminali.